Punizione, si punizione al limite, stai lì un attimo che te lo do Eh, gliel'hanno proprio dato proprio in centro alla brottola l'hanno buttata giù, no La kicka in panchina, si La Unterregersbach è fuori, la Melanie è fuori, la rodella è fuori No, no, sono tutte malate, rotte Bom, stai un attimo lì che ti dico questa punizione Adesso la tirano Ambrotto lo tira lei personalmente, no, è alto sulla traversa Ok